Buongiorno a tutti, Castriot, Dermaco è a vostra disposizione. C'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport. Castriot, questa stagione era cominciata male per te con gli infortuni. Poi quando sembravi lanciato l'attacco di Appendicite. Pensavi che potesse aspettarsi una conclusione così festosa e con tutti questi contrattempi e poi questa bella prospettiva finale? Sicuramente quando ero arrivato in inizio anno avevo già passato gli infortuni dall'anno scorso, però serviva un po' di tempo perché potessi entrare in condizione. Poi nel momento migliore dove stavo giocando avevo continuità, ho avuto quel problema di Appendicite inaspettato. Dopo sapevo che sarei dovuto star fuori un pochino, un mesetto e mezzo. Però sinceramente non ho mai pensato da egoista sul fatto che non potevo esserci perché ero contento che la squadra comunque riusciva a mantenere sempre i primi posti in classifica. Il mio primo pensiero è stato sempre quello, se ci sarebbe stato bisogno nel finale l'importante era farmi trovare il più pronto possibile. Poi è chiaro che avrei preferito fare tutta la stagione cercando di stare bene, però nel calcio succedono anche questi episodi inaspettati. Sono contento di essere arrivato a questo punto della stagione dove lottiamo per la promozione in Serie A. Questa prospettiva della Serie A per te che ti va a provare? Io l'ho già fatta a Parma due anni fa, è stato un anno molto positivo a Parma, ho fatto comunque 18 partite, ci siamo salvati con 5-6 giornate d'anticipo. E' chiaro che viverla con una promozione della Serie B dove te la sei guadagnata è completamente diverso, questo è sicuro e fa sicuramente più piacere e penso che uno se la goda anche di più piuttosto che andarci e trovarti lì e poi non sapere mai come potrebbero andare le cose. Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport e Mondo Radio Buongiorno Castrio, Fabio Lucioni l'ha indicata come uno dei leader dello spogliatoio, ma quanto c'era da fare a Cazzotti? Lei l'ha aiutato anche? Ringrazio Fabio per le belle parole, comunque nello spogliatoio non si può comunque lasciare tutto il lavoro a una sola persona, che comunque Fabio è un esempio per tutti, è un leader. Quindi soprattutto quelli con un po' più esperienza cerchiamo di dargli una mano, visto che è un gruppo comunque composto anche da ragazzi giovani che hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di una mano. Penso che la forza di quest'anno sia stata questa, che si giocava o non si giocava, c'era competizione. Siamo stati fino a questo momento molto bravi a sostenerci tutti quanti, a dirci sempre una parola positiva, a mettere sempre davanti il gruppo rispetto al singolo. Questo ha fatto sì comunque di arrivare a questo punto della stagione, in questa situazione e di attraversare anche momenti difficili, perché quelli ci sono stati e ci saranno sempre. Però penso che questa sia stata la forza di questa squadra. Sicuramente lei se ne sarà accorto del calore di questa terra, ma la mattina che lei si presentò in ospedale a Scorrano, poi la notizia già girava nei paesini e c'era tutto l'interesse che tutto andasse bene per l'operazione. Lei ha avvertito tutto questo calore della gente e dei tifosi anche in ospedale? Sì, sì, sì. Mi ricordo comunque appena dopo l'intervento, che comunque si era un po' sparsa la voce che ero ricoverato lì in ospedale, tantissimi infermieri o comunque persone che erano lì intorno mi hanno sostenuto. C'è chi voleva una foto, un autografo e mi ha fatto molto piacere, nonostante fosse successo l'intervento, comunque l'ho fatto a 35 minuti da qua, 30 minuti da Lecce. Quindi mi ha fatto capire quanto nel Salento, anche nei paesini intorno, tutti comunque tifano per questa squadra e ci sostengono. Carmen Tommasi, Tellerama. Appunto, parlando dei tifosi, è stata più bella, secondo lei, la vittoria con il Pisa o il calore dei tifosi? Ma è un insieme di cose perché è stata una spinta incredibile quella che abbiamo ricevuto da prima di entrare in campo al riscaldamento a quando l'arbitro ha fischiato perché ci hanno sostenuto veramente per 95 minuti ed è stato, sai, per chi viene a giocare qua contro di noi e trova un ambiente così quindi non è mai facile perché anche io quando giocavo contro Lecce e vedevo uno stadio comunque anche se era in Serie C quasi pieno e con tante persone che sostengono comunque il Lecce e fai fatica ad importi. Quindi è stato un mix delle due cose. La cosa più bella infatti è aver fatto i tre punti con tutta quella gente sugli spalti. Allora, due cose. Siete la difesa meno abbattuta del campionato, qual è il vostro segreto? Mister Baroni parla sempre di fase difensiva e poi qual è stato ad ora l'attaccante più difficile da marcare? Sì, per il momento siamo, penso, la miglior difesa. È un lavoro che fa tutta la squadra e che ci danno una grossa mano dagli attaccanti ai centrocampisti che chiudono tutte le traiettorie, si sacrificano dagli esterni e questo fa la differenza in una squadra. La voglia proprio di, se c'è da difendere, difendere, se c'è da attaccare, si attacca tutti insieme, di avere quella cattiveria in più, di fare quella corsa in più per il compagno perché è riduttivo fare i complimenti solo ai centrali della difesa o ai quattro o ai portieri perché si gioca in undici e se non ci si dà una mano tutti insieme, sia in fase offensiva che difensiva, non si possono raggiungere traguardi importanti. L'attaccante più forte quest'anno in Serie B o in generale? No, che hai dovuto marciare? Penso a livello internazionale, Harry Kane dell'Inghilterra quando ho cercato in nazionale, mi ha sorpreso. Era inserito in un contesto comunque molto forte perché l'Inghilterra è una squadra completa, diciamo, e quindi anche l'individuo si esalta, l'individuale, e Harry Kane è stato veramente difficile da marcare. Roberto Schipati, Gino Ordo Salento. Volevo sapere come vive lei personalmente le vigili delle partite importanti, come quella di Pisa, se sapeva già che avrebbe giocato, che sarebbe stato titolare, e come sta vivendo questa? Se ha un modo suo particolare di concentrarsi, a cosa pensa? Ma, dico, la settimana di Pisa è stata una settimana abbastanza intensa perché venivamo dalla sconfitta di Reggio Calabria, quindi a livello emotivo, diciamo, si sentiva nell'ambiente questa tensione di una partita importante. Però tutta la settimana abbiamo lavorato così bene, così intensamente, che sapevamo che avremmo dovuto vincere. Quindi col sostegno dei tifosi, con il lavoro che abbiamo fatto in settimana, ero molto più sereno alla vigilia della partita. Però non sapevo se avrei giocato o meno, perché comunque il mister fino all'ultimo giorno non ci fa capire questa cosa. Ci vuole tutti sempre sul pezzo e quindi, non sapendolo, non sapevo neanche come prenderla a livello di preparazione. L'ho preparato come tutte le altre partite, perché ogni partita è stata fondamentale, quindi l'importante è quello che cerco sempre di fare, di non sottovalutare mai nessuna squadra, nessun avversario, perché il campionato l'ha dimostrato quanto è imprevedibile. Si può vincere e perdere con chiunque, quindi quella è la prima cosa che cerco di mettermi in testa. Luigi Taurino, Lecce News 24. Cosa hai provato domenica dopo un minuto e trenta secondi, quando Livieri ti ha tolto quella palla sotto la traversa? Ma è stato un po' inaspettato, perché era il primo pallone che comunque toccavo in partita, quindi forse mi ha preso anche un pochino a freddo. e sono convinto che se fosse successa in un altro momento più avanti della gara avrei potuto fare meglio anch'io. Però non mi ero disperato qualcosa, perché sapevo che era comunque un segnale che avevamo dato, quello di aver subito un'occasione, un calcio d'angolo, poi un altro, che li avevamo messi un po' lì, sotto pressione, che il gol sarebbe arrivato. Poi è arrivato dopo al diciottesimo, mi pare, di Fabio, quindi la contentezza è stata uguale come se avessi segnato io. Valeria Coi, Corriere Salentino. Agganciandomi proprio a quello che hai detto tu, e anche l'hai nominato, Lucioni, alla fine della partita è venuto qui, lui è l'unico che ha giocato sempre, non ha giocato una sola volta, ma perché ha dovuto osservare il turno di squalifica. Ha detto una cosa molto bella, secondo me, anche perché da capitano è una bella espressione, ha detto, permettetemi di ricordare che ha giocato meno. Tu hai giocato, hai fatto un po' da staffetta con Tuglia, poi Tuglia è stato anche fortunato, alle volte anche Calabresi si è dovuto adattare al vostro ruolo. Ecco, tu ti senti effettivamente, come dice Lucioni, protagonista al 100%, vero? C'è questo clima in squadra. Sì, sì, ed è questa la cosa positiva, penso, perché abbiamo messo tutti sullo stesso livello. Per fare un altro nome, Blin, che magari fino a poco fa aveva giocato magari meno, è sempre stato un ragazzo che si è allenato sempre a 200 all'ora, e per noi comunque, anche se uno non gioca 90 minuti, ma ne gioca 5, è importantissimo per questo spogliatoio. Abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio anche ai più giovani, di non mollare se fai 5 minuti piuttosto che 90 in una partita, perché c'è bisogno veramente di tutti in qualsiasi allenamento, se si vuole raggiungere un obiettivo importante. Poi, se la squadra inizia a mollare e i giovani, o comunque ci sono ragazzi che non hanno questa mentalità, poi i risultati non arrivano alla lunga. Però, come dicevo prima, la forza di questo gruppo è stata proprio quella di mettersi tutto a disposizione, sentirti protagonista, perché la sensazione di quando si giocava era quella comunque, di far parte di questo gruppo come se avessi giocato tutte le partite. Io volevo sapere che Vicenza si aspetta. Sarà una partita difficilissima, perché loro ci aspetteranno sicuramente avvelenati, dovranno vincere, quindi sarà una battaglia, come tutte le partite di questa stagione, quindi l'importante è non pensare di aver fatto qualcosa, di aver già raggiunto l'obiettivo, perché non è così e andremo a fare la nostra partita come sempre e non sottovalutare nessuno, perché sarà una partita difficilissima come tutte. Pasquale Marzotta? Sì, Castriot, scusa, l'ultima domanda proprio su quanto detto. Però questa gara, Vicenza-Lecce, che propone sia la promozione per il Lecce, sia la progestione per il Vicenza, alla fine con i risultati degli esiti degli altri concorrenti, potrebbe risolversi anche con la conquista paradossalmente della Serie A per il Lecce con una sconfitta e per il Vicenza potrebbe esserci, nonostante la vittoria, potrebbe esserci anche la progestione. Con queste situazioni come si va in campo? Guarda, l'errore più grande sarebbe quello di entrare in campo e pensare vediamo quanto fanno le altre, quanto stanno, chissà. No, dobbiamo fare come col Pisa, siamo entrati in campo con un obiettivo che era quello di vincere. Poi ci è andata bene perché tutti i risultati sono andati a nostro favore, ma è stata una cosa inaspettata. Noi dobbiamo scendere in campo sapendo che se si vuole raggiungere l'obiettivo c'è da vincere. Poi ogni partita ha la storia a sé, sarà difficile, ma non dobbiamo assolutamente fare calcoli perché sarebbe l'errore più grosso. Noi dobbiamo fare la nostra partita, il Vicenza farà la sua partita, poi quando fischia l'arbitro alla fine faremo i conti, ma prima di scendere in campo assolutamente non dobbiamo pensare a queste cose. Grazie a Castigiotto Dermago, grazie a tutti voi. Grazie a 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 voi.